Bene ragazzi, in questo video vi mostrerò come creare una molla colorata come questa di tre colori innanzitutto prendete il fil di ferro tagliato in due parti se possibile e per adesso mettetelo da parte prendete un elastico un elastico di quelli tondi tagliatelo come io ho già fatto come vedete lo mettete da parte poi andate dal marocchino e ve ne prendete una grazie a tutti grazie a tutti